L'opera è quello che si dà da fare, quello che si muove, che si alza al mattino, che produce e alla fine della giornata dice ok sono stanco, sarò anche un po' stressato, scocciato, però oggi ho lavorato, ho dato il meglio di me e ho prodotto, è bello essere operaio. Quando faccio qualcosa, quando accetto di fare qualcosa, lo faccio bene. Io ho un certo tipo di filosofia del lavoro e voglio che sia fatto bene. Credo che c'è il destino, ma credo che c'è anche il merito. Quindi vado avanti, faccio tutto lo sforzo possibile accettando il risultato finale. Io ho comprato la casa qua, ho comprato la casa due anni fa. l'andamento del mondo ora che ci impone l'immigrazione. È un processus irreversibile. Quindi bisogna collaborare. non gridarci, ma provare a vedere insieme a noi come fare per gestire questo fenomeno che non è nuovo. Fa parte dell'istoria del mondo. Ciaccio Moringa Ciaccio Moringa Ciaccio Moringa Ciaccio Moringa Ciaccio Moringa Ciaccio Moringa